Oggi in questa ricetta abbiamo una tartare di filetto di manzo battuto al coltello quindi con la carne un po più grossa rispetto a quando viene macinata dove salvo un pochino di scalogno tritato lasciato in olio d'oliva l'unico vero condimento è il blend dipinto numero 9. Mi piace molto questo mix perché amo la combinazione delle due spezie chiodo di garofano e noce moscata entrambe addolcite dalla presenza dell'oro essenziale di arancio Grazie 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 Grazie